la situazione non è buona i capaci ci fanno fare la guerra ci siamo fatte una promessa che questa guerra la finivi te lo ricordi? stiamo sotto attacco tengo bisogno dell'aiuto tuoi c'è un'asente più forte cosa da questa corte io le mando su qui se noi ci facciamo fare una guerra che noi non possiamo fare tenete un problema pure in due centri di Napoli basta che guerra ti faccio in poi a me non mi avrete più siamo fieni di te ci marco in ufficio chi è il progetto? non ho chiesto di fare una proposta da questo irrevocabile e l'ho già fatto mi sono venuto a toccare lontano perché aveva un problema e ora questo problema tu me lo hai risolvo secondo te non è un po' non è capace di gestire l'alleanza non ho saputo che avevano un problema ti voglio aiutare muoce insieme a me far male io secondo te tratta tutto quanto un mio figlio ma se mi manca le rispetta una pavà ma che ti ha aspettato un padre? questa è la vita nostra non è capito ancora come funziona qua? dopo un video di nessuno sapete chi è il primo italiano ad aver vinto l'Oscar in assoluto? il grande Vittorio De Sica nel 47 con Shusha la prima attrice invece fu Anna Magnani nel 55 per La Rosa Tatuata e l'unico italiano ad aver vinto come miglioratore protagonista è Roberto Benigni nel 99 con La vita è bella se volete trovarci anche su TikTok andate nell'info box c'è il link e per altri video e argomenti qui accanto a me ciao al prossimo video